L'assessorata all'ecologia retta dal vice sindaco, Nuccio Raneri, ha già iniziato a muovere i suoi primi passi. Negli scorsi giorni, in sinergia con l'Ato, Ace Ambiente e la ditta che si occupa del servizio ambientale, sono state dimostre diverse microdiscariche nel territorio comunale, tra cui alcune segnalate anche da consiglieri comunali santantonesi. L'intervento più nel dettaglio è stato compiuto nelle vie Silvio Pelli, Cosalemi-Pennisi, Scalazza Grande, Angolo, Via Leoncavallo, oltre che in due siti posti nel tratto di strada, compreso tra le vie Matteotti e Donatello. Subito dopo gli interventi, precisa lo stesso Raneri, così come segnalato anche dall'assessato, in alcune delle aree ripulite è stata riscontrata la presenza di nuovi rifiuti. Un atteggiamento di inciviltà che sicuramente non potrà più essere tollerato in futuro, pertanto, come suggerito anche da Ace Ambiente, saranno predisposte azioni urgenti per contrastare il fenomeno e punire i responsabili. Per tale motivo aspichiamo ancora una volta la collaborazione della cittadinanza e rinnoviamo l'invito ad osservare le più elementari norme di rispetto per la cosa pubblica per non verificare il lavoro e i sacrifici economici che vengono sostenuti. Sempre in merito alla problematica ambientale, l'assessore Raneri informa che durante il periodo estivo, per consentire la riorganizzazione al meglio dei turni e la modalità di conferimento, l'isola ecologica di Via Santo Onofrio rimarrà aperta al pubblico per le prossime settimane soltanto in orario diurno dalle 9 alle 12, anche se a giorni verrà comunicato l'eventuale ampliamento dell'orario di apertura mattutino.